Breganze si trova ricoverata in rianimazione in condizioni gravissime all'ospedale di Padova, una sessantenne del posto che stamattina è stata travolta da un'auto, mentre procedeva in sella la sua bicicletta lungo via Roma, diretta verso Tiene. Da una prima ricostruzione da parte della polizia locale nord-est, Vicentino intervenuta per i rilievi, pare che il conducente della punto, un trentenne di Malo proveniente da Sarcedo con direzione Breganze Centro, effettuando la svolta a sinistra per via Crosara, non si sia accorto della donna che stava sopraggiungendo. Un impatto tremendo, necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la ferita al nosocomio Patavino, disagia il traffico per oltre un paio d'ore.